ben ritrovati con la settimana in tv quest'oggi con il vescovo parleremo della settimana santa e ancora della adorazione eucaristica del giovedì santo e delle celebrazioni della prossima pasqua infine parleremo anche della visita alle scuole del vescovo in particolare dell'istituto superiore enriques monsignore la settimana santa si avvicina e con lei la santa pasqua come viverla a questo momento confesta il giorno delle palme il giorno dell'olivo la benedizione dell'olivo che qui è tradizionale perché la benedizione olivo l'olivo è segno di pace ma al tempo stesso è segno dell'accoglienza di cristo a gerusalemme un'accoglienza per la verità tremenda la domenica gli fanno festa il venerdì l'ammazzano è anche il segno della nostra fede subito pronta a entusiasmarsi ma anche pronta a deprimersi in questa settimana siamo chiamati come cristiani a fare un profondo esame di coscienza ma come vivo il mio battesimo vivo i dieci comandamenti vivo l'impegno dominicale per un cristiano è caratteristica la domenica vivo il mio impegno di fedeltà al santo vangelo in questa settimana sono i grandi esercizi spirituali del popolo di dio sono tre giorni giovedì venerdì sabato notte domenica in cui il cristiano è chiamato a partecipare intensamente a questi momenti liberarsi da ogni altro impegno per partecipare alla messa in cena domini al ricordo della messa che ha istituito la santissima eucaristia venerdì all'adorazione della croce ricordando la morte di cristo domenica alla pasqua di risurrezione sono appuntamenti capitali per un cristiano al quale ognuno è chiamato a partecipare pienamente e con convinzione buona pasqua a tutti Don Bruno il vescovo sta incontrando gli studenti degli istituti superiori secondo un progetto mi state a cuore ha incontrato di recente gli alunni delle request com'è andato questo incontro l'incontro è stato positivo soprattutto quelle che sono state le discussioni che hanno seguito l'incontro infatti con le diverse quarte sono nate delle belle riflessioni sono sorti dei dubbi i ragazzi ne hanno parlato volentieri con i docenti il progetto mi state a cuore aveva come titolo lassù tra le stelle incontro tra scienza e fede è promosso dal miur poi è stato lanciato dall'ufficio irc quindi dal suo dipartimento in particolare i quattro docenti di rc del liceo e riquez sapete che il vescovo è visto sempre come un personaggio lontano come qualcuno che è intoccabile invece il vescovo si è saputo mettere in discussione con gli alunni suscitando quelli che poi sono stati dei dubbi che hanno provocato le discussioni poi in classe alla presenza delle autorità civili e militari con la partecipazione di don valerio pennasso del responsabile dei beni culturali della cei il costruttore bottai ha consegnato al vescovo giusti le chiavi della nuova chiesa al borgo di magrignano una chiesa che sarà al servizio del nuovo quartiere che sta nascendo ma anche al servizio di tutta la città simbolo e segno di fede simbolo e segno di sostegno e attenzione alle persone e alle famiglie come la figura di madre teresa di calcutta a cui è stata intitolata un rito lungo e suggestivo con unzione dell'altare e delle pareti della chiesa a rendere sacro questo luogo di culto dove a partire dalla domenica dopo pasqua il 28 aprile sarà celebrata la messa dal nuovo parroco don federico mancusi i catecumeni adulti ormai sono prossimi a ricevere i sacramenti dell'iniziazione cristiana la notte di pasqua si sono ritrovati ancora per un momento di festa e di condivisione ancora una volta ospiti nella comunità parrocchiale della sacra famiglia davanti a gesù e eucaristia si sono alternati momenti di canto lettura della parola e semplici riflessioni e preghiere di ringraziamento la gioia di camminare insieme è proseguita in serata con la cena condivisa il mercoledì santo la diocesi festeggia la giornata sacerdotale un'occasione per il clero per fermarsi a pregare e riflettere prima del triduo pasquale dopo il ritiro della mattina nel pomeriggio in cattedrale i sacerdoti durante la messa crismale rinnoveranno la loro promessa sacerdotale e riceveranno l'olio dei catecumeni del crisma e degli infermi da portare nelle parrocchie una celebrazione a cui tutti coloro che riceveranno la crisma quest'anno sono stati invitati a partecipare lo spirito santo che riceverai nella crisma scrive monsignor giusti nella lettera ai crismandi vuole essere una presenza che in te e attraverso te agirà in un rapporto di azioni buone verso gli altri vedrai che con la crisma insieme alla tua comunità sarai un testimone forte e instancabile di gesù nella serata del giovedì santo il 18 aprile in cattedrale sarà celebrata la messa in cena domini con inizio alle 21 e 30 dopodiché inizierà la veglia di preghiera a partire dalle 22 e 30 presso l'altare della reposizione la veglia dal titolo restate qui e vegliate con me è rivolta soprattutto ai ragazzi e ai giovani della diocesi per riflettere meditare e contemplare insieme i passi più significativi della passione di gesù la preghiera sarà animata e guidata dai seminaristi martedì scorso le scuole dell'infanzia e primaria delle affondazioni san carlo borromeo hanno percorso la via crucis nei giardini della villa fabbricotti secondo la tradizione annuale dell'istituto i bambini si sono alternati nel portare la croce davanti alla processione nel fare le letture alle stazioni nell'esporre cartelloni con scene dei vari momenti del cammino il percorso ha avuto inizio e si è concluso nella chiesa di sant'agostino dove don matteo ha salutato i bambini e ha impartito a tutti i partecipanti alunni insegnanti genitori e personale della direzione scolastica la benedizione Cristo è morto e risorto in terra santa un luogo a noi caro e spesso visitato perché lì tutti siamo nati spiritualmente scrive il vescovo nella lettera in occasione della raccolta per la terra santa che ogni anno si svolge il venerdì santo la solidarietà con la terra di Gesù si concretizza con i pellegrinaggi che fortunatamente sono in ripresa con una numerosa presenza di fedeli e con il contributo economico di tutte le chiese e di tutti i fedeli alla colletta pro terra santa istituita da paolo sesto nel 1974 e fissata proprio nel giorno della passione di Cristo per sensibilizzare tutti i cristiani alla custodia di questi luoghi santi vi segnaliamo adesso gli appuntamenti nella diocesi di livorno per la prossima settimana venerdì 12 aprile alle 21 alla chiesa di nostra signora del risario l'inizio della via crucis cittadina domenica 14 aprile la domenica delle palme alle 10 e 30 in cattedrale la benedizione dell'olivo e la santa messa preseduta dal vescovo lunedì 15 aprile alle ore 11 alla chiesa di saiacopo la santa messa di precetto pasquale per i carabinieri martedì 16 aprile alle 8 e 30 la santa messa di pasqua allo stabilimento eni a stagno mercoledì santo il 17 aprile alle ore 17 e 30 in cattedrale la santa messa crismale giovedì santo 18 aprile alle ore 21 e 30 in cattedrale la santa messa in cena domini a seguire l'adorazione eucaristica animata dai seminaristi venerdì santo 19 aprile alle 15 in cattedrale la celebrazione della passione del signore sabato santo 20 aprile alle 22 e 30 la veglia pasquale la benedizione dei bambini e delle uova pasquali sarà trasmessa in diretta su granducato tv domenica di pasqua di resurrezione il 21 aprile alle 8 e 45 la santa messa al carcere alle 10 e 30 in cattedrale la santa messa con la benedizione dei bambini e delle uova pasquali in diretta su granducato tv grazie per essere stati con noi ci vediamo la prossima settimana e non vi dimenticate l'appuntamento con il martedì sera con la trasmissione si fa sera parliamone su granducato tv ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti